di bala sono stati molto bravi ad aprirsi un barco nella difesa avversaria hanno sfruttato al meglio il calcio piazzato niente da fare su questa punizione per il portiere che meraviglia di bala sono stati molto bravi ad aprirsi un barco nella difesa avversaria hanno sfruttato al meglio il calcio piazzato niente da fare su questa punizione per il portiere che meraviglia